Bene amici, mi mancavano un po' gli unboxing, il problema di quest'ultimo periodo è che ci sono stati tanti telefoni sotto embargo e quando un telefono è sotto embargo non lo posso unboxare pubblicamente e quindi mi sono fatto degli unboxing privati ma mi mancavano le nostre 4 chiacchiere da amici al bar. Poco M5 finalmente provo, un telefono lo costo dopo tutti questi telefoni costano un sacco, no in realtà l'ultimo Pixel 7 ci sta come prezzo a me non dispiace come design anche se il giallo poco forse sarebbe stato un pochino più bellino ecco forse questa finitura dietro è finta pelle anni 80 ma almeno un po' diverso dagli altri ci sta è un telefono che mi pare stia sotto ai 200 euro, pensavo fosse AMOLED il grigino mi riporta la realtà è un LCD ma adesso aspettiamo che si accenda magari poi vi do subito le prime impressioni perché abbiamo tanti pacchi tra l'altro la maggior parte che non so cosa contengono tipo questo mi segui sei uno di noi fai queste che sono tovagliette in pelle riciclata che produciamo in Bulgaria personalizzate per te Chiara e Gabri altro pacco di SBS, batteria con MagSafe per iPhone ok così è giusto vedete sta ben attaccata vediamo alla fine dell'unboxing quanta carica gli ha dato e ooooooh ste scatole sotto vuoto aaaaaah fold oled fold oled zitti tutti questo rumore è sempre bellissimo uuuuh cos'è il pc foldable no non lo sto rompendo lo sto piegando di asus ovviamente non si apre con una mano ce ne vogliono due e lo proverò molto presto anzi lo metto subito sotto per capirne il senso anche se un'idea a berlino già me l'ero fatta adesso vedremo è un mondo affascinante quello dei pieghevoli che secondo me divide perché è proprio in base alla destinazione d'uso che si trova un senso oppure no ma mi incuriosisce anche questo perché che mi avete mandato un paio di Jordan no dai niente Jordan raga tra l'altro mi parte parte sta partendo sta partendo sta parte fermati torno dentro il pimpone sulle Jordan allora è vero io sulle scarpe sono uno scappato di casa perché non si fa mai la mia scrivania chi se ne frega allora le mie scarpe ce le ho tipo da tre anni sono distrutte la suola è praticamente consumata di lato qua e molti mi dicono andrei sempre le stesse scarpe che cavolo sì ma se funziona sono tra le scarpe più comode del mondo da quando le ho scoperte vi giuro vado sempre a comprare quelle perché sono stra stra comode e vedo tutto in giro con steccacchio di Jordan va bene è bella le moda anche io da ragazzino tutti con le Timberland e poi tutti con le Vans e poi tutti con le Ostar e poi tutti con le Stasmith quindi la moda ci omologo un po' e forse anche un po' giusto così ma o forse no non lo so ma ripeto il pimpone non sta lì sta nel fatto che ormai le Jordan da status symbol quelle particolari con colori strani le prime versioni eccetera eccetera sono diventate un che se ce le ha i piedi si è un po' sfigato perché ce le hanno tutti cioè la particolarità secondo me sta nel trovare quella chicca molto comoda molto particolare che magari non hanno in tanti che fa molto più figo secondo me rispetto ad avere le Jordan che ormai ce le hanno tutti ma scusate il pimpone mi azzittisco quello c'era qua dentro no non c'è un paio di Jordan in realtà ci sono rimasto un po' male vabbè c'è Andrea noi di Comoli Ferrari vorremmo reinventare le fiere con una non fiera mi sembra una genialata perché ormai le fiere vai su internet trovi tutto vabbè per questo ti invitiamo a Itz Elettrica che da quest'anno si converte da prodotti a soluzioni soluzioni per l'home automation, l'indoor air quality, la distruzione energetica, la sicurezza, la mobilità elettrica non solo oh ma grazie sono invitato il 19 a Itz Elettrica ma me ne avevate parlato di questa che figata finalmente finalmente soluzioni per l'home building, per la domotica, per la distribuzione dell'energia per Fiera Milano via Scarampo ok 1921 vengo vengo anche perché ho toccato con mano questo problema era un po' che non avevo progetti abbastanza importanti da sviluppare come architetto io sono un architetto operaio nel senso che quando faccio un progetto mi piace molto andare sul cantiere vedere le cose, toccare con mano, si impara tantissimo e era un po' che non avevo tempo, non ho ancora tempo da quando decido di aprire il mio blog mi sono buttato anima corpo e quindi la parte architetto l'ho lasciato un po' da parte faccio per gli amici magari ripeto il bagno, l'home design, interior, queste cose qua ma progetti grossi no casa mia adesso invece è un progetto abbastanza importante, abbastanza grosso soprattutto dal punto di vista proprio di integrazione di servizi tra domotica trattamento dell'aria eccetera 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 quindi mi sono scontrato con una non cultura da parte delle imprese, delle aziende in generale trovi delle persone molto molto specializzate ma la maggior parte delle persone che ragionano a compartimenti stagni e quindi ci vuole non parlare del prodotto, chi se ne frega della lampada, chi se ne frega dell'interruttore ma di integrazione perché trovare delle figure professionali e formare delle figure professionali è importante perché non si trovano che conoscono a 360 gradi proprio il mondo dell'automazione delle case one plus cosa mi manda? vabbè con affetto one plus, one plus invece di mandarmi queste cose aggiorno poi i tuoi telefoni torna a fare dei best buy comunque vabbè grazie alla faccia di un libro grande grande milanese imbruttito ti voglio bene e poi secondo me si sono sbagliati no in realtà qua c'è scritto Andrea Galeazzi corso comunque 4 e bla 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 ma da Trend Device non aspettavo niente carta, 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 carta nooo topissimo non c'entra allora vabbè ve lo racconto, vi racconto una storia uno dei due soci di Trend Device fa parte di una famiglia che ad Avellino ha un po' di attività e sono un sacco di fratelli quando sono andato l'ultima volta giù a Trend Device a portare il mio Mac insomma l'avete visto guardate sennò il mio video su come ricondizionano sono veramente dei bravi ragazzi mi ha portato a mangiare da uno dei suoi fratelli che ha aperto una sorta di boutique ristorante io l'ho visto fuori e ho detto ma dove mi hanno portato? ho iniziato a aver paura fuori c'era scritto scuola di musico qualcosa del genere una vetrina cioè sembrava un posto diciamocelo sfigato entro conosco lo chef la sua passione sua non so se moglie o compagna esperta di vini hanno girato un sacco un sacco di cultura culinaria e anche vinicola e mi ha contattato seguiteli su Instagram andate a mangiare The Rug se siete di Avellino o dintorni prenotate perché è proprio un ristorante dove vi coccolano fuori non sembra un ristorante entrate invece il design è bello l'apparecchiatura è bella il cibo è stratosferico e c'è tanta passione ci sono dei macchinari la cucina è pazzesca e loro fanno anche catering ma anche per esempio panettoni che spediscono e allora mi ha contattato mi ha detto Andrea vuoi uno dei nostri panettoni che abbiamo appena sfornato ho detto ma ovvio che sì grazie ragazzi ma non è finita incredibile non mi è venuto il colpo della strega ma vediamo un po' questo nuovo monopattino bello il display ovviamente c'è l'applicazione adesso dovrò collegarlo al bluetooth del telefono con una matrice di punti doppio click si accende il faro anteriore guardate tagliato come quelli automobilistici quindi già questo dà un'idea di quanto sia costruito bene e poi il faro mi piace un sacchissimo questo ring attorno proprio alla luce vediamo se riesco ma questa sony dà un po' di problemi guardate non riesce proprio bene a gestire il controluce vabbè chi se ne frega indicatori di direzione sia anteriori che posteriori dietro c'è ovviamente anche la luce dello stop motore posteriore 300 watt la batteria si carica da qua autonomia dichiarata una quarantina di chilometri peso massimo che può sopportare 100 kg davanti il freno è a tamburo quindi niente disco niente disco dietro quindi dietro solamente frenata rigenerativa pedana antiscivolamento campanellino acceleratore direi che andiamo a provarlo ma mi sto dimenticando ho configurato il poco e vi racconto che ha il sensore di pronta digitale qua lateralmente costa 189 euro vediamo se nel 2022 un telefono sotto i 200 euro può andare bene 5000 mAh di batteria no grandangolare ma 50 megapixel la cam principale il display è comunque un 90 hertz anche se ha IPS non mi sembra girare male Helio G99 il processore vediamo proviamo a aprire Netflix vabbè l'ho appena configurato quindi non ci sono tante applicazioni proviamo a aprire Nord Pass che è lo sponsor di questo video ovviamente la sicurezza avete visto prima di tutto perché mi ha nonostante io l'abbia aperto prima richiesto la password quando sono rientrato cos'è Nord Pass? quel gestore di password multipiattaforma Android iOS Mac Windows le password stanno in cloud ovviamente archivate in modo sicuro ho fatto un video ho comprato più gestori password e questo è uno che mi ha convinto uno di quelli che mi è piaciuto di più tante possibilità anche di procedere delle note dati personali carte di credito elementi condivisi quindi si possono condividere delle password con altre persone eccetera 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 tra l'altro ci dice anche se nel web ci sono state delle violazioni dei dati e ci dice se gli account che abbiamo possono essere stati compromessi ma quasi 200 grammi questo telefono sarà una sfida vedere appunto se sotto i 200 euro possono esserci telefoni che ancora girano bene ovviamente USB di tipo C e niente vedremo è solo il design e c'è anche giallo poco perché non me l'hai mandato giallo questo nero è un po' anonimino vabbè ma di quanto si sarà caricato l'iPhone sono al 68% ero circa al 30 è passata mezz'oretta quindi ci sta carica abbastanza veloce perché sapete che la QI mi sembra su iPhone sia a 15 watt e penso di sfrutti tutti questa batteria da 5000 mAh quindi ci fa circa una carica completa di qualsiasi iPhone magari una carica e mezza sul Pro non Max e nel frattempo anche lui si è acceso cosa vuole? ah caspita devo collegargli la tastiera via bluetooth giusto vabbè raga vado a giocare come al solito che figata grazie a tutti